Mosè scende dal sinie e raduna tutti il popolo. Ascoltate, devo comunicarvi una notizia buona e una cattiva. Dacci prima quella buona, esclama il popolo a una sola voce. E Mosè la notizia buona è che sono riuscito a scendere da 15 a 10 comandamenti. La cattiva è che purtroppo per l'adulterio non c'è stato niente da fare. È un apologo molto vecchio, nel 5 ottobre 2005 dell'avvenire all'opera di Professor Ravassi. Caro amico, ho scelto un apologo dell'umorismo ebraico per introdurre questo nuovo argomento che ci fa notare subito che siamo portati non tanto verso la scalata delle vette che richiedono sacrificio, ma verso il minimo impegno. Vogliamo cioè lo sconto. Chiedere lo sconto è una prassi normale. Gesù non concede sconti. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questa espressione ripropone l'invito che Dio rivolge al popolo eletto. Siate santi perché io, il Signore Dio vostro sono santo. Un messaggio chiaro ed impegnativo, diretto ad elevare l'uomo alla dignità di figli che si sforzano di essere simili al Padre. Nella Genesi leggiamo Dio che Dio creò l'uomo a sua immagine, vale a dire che sin dalla creazione vi è insita la chiamata alla santità. La vita filiale si esprime attraverso il dinamismo delle virtù teologali, fede, speranza, carità. Per avere un raccolto soddisfacente non basta seminare molto seme, gettare nel campo con abbondanza il seme. Occorre che il terreno sia buono. Il Regno di Dio è interamente buono, ma ha bisogno della nostra cooperazione. La esige e la provoca nello stesso tempo è Dio stesso. Non salva l'uomo contro la sua volontà, è la sua libertà. La lieta notizia del Regno di Dio implica un appello. Convertitevi e credete al Vangelo. Convertirsi significa assumere un diverso modo di pensare e di agire, mettendo Dio e la sua volontà al primo posto, pronti all'occorrenza, a rinunciare a qualsiasi altra cosa, per quanto importante e cosa possa essere. Significa liberarsi dagli idoli che ci siamo creati e che legano il cuore, benessere, prestigio sociale, affetti, disordinate, pregiudizi culturali e religiosi. La decisione deve essere netta, senza riserva. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. E se la tua mano destra ti è di scandalo, tagliala e gettala via da te. Tuttavia Gesù conosce la fragilità umana e sa essere paziente. Chi si converte si apre alla comunione, ritrova l'armonia con te e con se stesso e con le altre cose. Zaccheo aveva accumulato tante, tante ricchezze, ma non aveva la pace del cuore. Sapeva di essere maledette dal popolo che era sfruttato da lui. Incontra Gesù, restituisce ai poveri quello che aveva defruudato agli altri e riceve la pace del cuore. Ha dentro di sé il paradiso. Guardatevi di essere attenti ad ogni cupidiggia perché anche se è nell'abbandanza la sua vita dipende dai suoi beni. Si tratta di un pericolo molto concreto. Il giovane ricco non riesce a liberarsi dai suoi veri. Volte le spalle a Gesù e se ne va triste. Il Vangelo di Matteo conferma. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.